Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti ai fighi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono per la pasta frolla, farina di tipo 00, zucchero di canna, burro, un uovo, un tuorlo, lievito, sale, vanillina e scorza di limone. Per la farcitura fighi sbucciati e tagliati a pezzetti, zucchero di canna, mandorle e scorza di limone. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la pasta frolla. Mettiamo all'interno del boccale la scorza di limone e lo zucchero di canna e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Finiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro. Aggiungiamo la farina, l'uovo e il tuorlo, la vanillina, il sale e il lievito ed acceniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. La frolla è pronta. Formiamo un panetto, avvolgiamolo nella pellicola trasparente e ripoliamolo in frigo per almeno 30 minuti. Senza lavare il boccale, mettiamo le mandorle e le facciamo tritare per 15 secondi a velocità 10. Mettiamole da parte. Mettiamo nel boccale lo zucchero e la scorza di limone e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo i fichi. Redazione a mil bimbi per 15 minuti, 100 gradi, velocità 2. Aggiungiamo la farina di mandorle e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 3. Il composto è pronto, trasferiamolo in un contenitore, copriamolo con pellicola trasparente e riponiamolo in frigo fino al momento dell'uso. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, l'abbiamo infarinata, adesso lo andremo a stendere tra due fogli di carta da forno. Dopo aver steso la frolla, formiamo un quadrato delle dimensioni di 30 x 30 centimetri, ritagliando la pasta in eccesso. Abbiamo tolto la frolla in eccesso, adesso ritagliamo la pasta in tre parti uguali. Riprendiamo il composto di fighi e mettiamolo al centro di ogni striscia. Ripiegare i bordi. Posizionarli in congelatore per 20 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la frolla dal congelatore, adesso gireremo i nostri salsicciotti. e li tagliamo formando i biscotti. Li posizioniamo su una teglia rivestita con carta da forno. E proseguiamo così per tutto il resto del composto. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 13-15 minuti. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti ai fighi! Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!